Verrà fatto un incontro apposito proprio mercoledì 15 gennaio alle ore 17 verso la sala consigliare di Terranova Bracciolini con tutte le aziende agricole che sono interessate a questo progetto. Come sappiamo la Ferrero sta potenziando la produzione di nocciole soprattutto utilizzate per i prodotti dolciari più diffusi e conosciuti a cominciare dalla Nutella in Italia e ha pensato di stipulare un accordo con Confagricoltura a seguito del quale sta cercando degli operatori economici e agricoli che sono interessati a iniziare la produzione. Mercoledì 15 gennaio alle ore 17 sarà l'occasione per illustrare questo progetto agli agricoltori e ovviamente raccogliere l'interesse e le istanze di coloro che sono disponibili a collaborare con Confagricoltura e con la Ferrero. Credo sia un'opportunità aggiuntiva per la nostra vallata quindi invitiamo tutti coloro che sono interessati a partecipare.